oggi descriviamo questo x aircross 2 della foto pro mi è stato fornito come detto da foto pro official per poterlo testare sul campo e quando mi è arrivato alla prima impressione quando l'ho tirato fuori dalla sua scatola è stato ovviamente un cavalletto molto piccolo però dopo vari test sul campo anche con vento anche utilizzando il mio teleobiettivo 100 400 la mia faccia è cambiata così è veramente incredibile questo cavalletto perché il ragazzaccio in misure veramente ridotte ha delle qualità che i suoi fratelli maggiori di marche molto blasonate e molto conosciute hanno ma non in queste misure e in questo peso e quindi andiamo a parlare di misure innanzitutto completamente chiuso come vedete retratto nella sua posizione da viaggio se vogliamo chiamarla così perché può essere messo in un trolley tranquillamente è di soli 36 centimetri di lunghezza perché le sue gambe tramite le clip che si trovano qui possono essere girate a 180 gradi e quindi reclinate in modo tale da poter essere completamente trasportabile una volta ruotate le gambe come vedete siamo poco al di sopra dei 40 centimetri circa e a me è stato fornito con una testa a sfera che è quella naturalmente che preferisco perché mi permette dei movimenti molto veloci quando devo cambiare posizione di scatto e il suo peso totale con anche la testa a sfera montata test mio sulla bilancia di casa è 881 grammi ed è il motivo per cui mi sono interessato tantissimo questo cavalletto perché è meno di un chilo con la testa montata come peso regge 10 chili il cavalletto questa testa in particolare solo 3 ma per i miei utilizzi va più che bene perché come detto e dopo ve lo farò vedere l'ho usato anche con il 100 400 in varie situazioni anche con vento e non ho avuto nessunissimo problema con la mia canone osr montata può arrivare a un'altezza da tutto aperto quindi con le gambe le cinque sezioni delle gambe di cui una è questa ovviamente le altre quattro sono ad uscita a un'altezza come dicevamo di 150 centimetri con la colonna completamente aperta perché c'è anche una colonna centrale in questo cavalletto quindi con la colonna centrale completamente aperta siamo a 150 centimetri altrimenti siamo a circa 126 centimetri con la colonna invece chiusa l'altezza minima di scatto da terra è 17 centimetri perché la sua colonna centrale può essere smontata ruotando la parte sottostante viene staccata e si può quindi avere una colonna centrale corta per poter arrivare a fare gli scatti a terra molto ravvicinati al nostro soggetto che a me piacciono tantissimo il diametro massimo delle gambe quindi della gamba più grande è 25 millimetri e come abbiamo detto a cinque sezioni compresa questa con un sistema innovativo chiamato twist lock che permette di allungare le gambe semplicemente ruotando la base vedete tre quattro volte e aprendola riruotando nuovamente noi blocchiamo la gamba se ruotiamo nuovamente la richiudiamo e come detto possiamo vedere proprio qui uno due tre quattro volte per aprire tutte e quattro le sezioni ovviamente girando una volta sola o due si apriranno una o due sezioni e così via abbiamo poi detto di queste clip che permettono di ruotare le gambe a 180 gradi per poter richiudere il cavalletto e trasportarlo ma hanno anche altre tre posizioni una ovviamente è questa e poi abbiamo altre due per poter aprire la gamba il più possibile e come detto usare il cavalletto in una posizione molto ravvicinata con il terreno la costruzione è una costruzione fantastica perché è completamente in carbonio questo cavalletto con una tintura una sabbiatura molto speciale per resistere chiaramente agli agenti atmosferici e inoltre ha anche un'anodizzazione antiruggine quindi come detto veramente un cavalletto di fascia molto alta anche se dalle forme non sembra su una delle gambe abbiamo un grip in silicone per poterlo prendere anche in ambiente freddo ovviamente quindi senza congelarci la mano o attaccarla al carbonio perché chi l'ha già usato sa quanto il carbonio possa essere freddo quando siamo a temperature vicine allo zero sotto lo zero i colori in cui possiamo ritrovarlo sono quattro io ho scelto il jungle green ovviamente perché il verde è uno dei miei colori preferiti perché il colore della speranza oltre a questo partendo dall'alto verso il basso guardiamo meglio anche le specifiche sia di testa sia poi di tutto il resto del cavalletto innanzitutto abbiamo detto la testa io ho scelto una testa sfera in questo caso una testa che regge fino a tre chili su questa testa sfera abbiamo l'attacco classico arca suisse quindi comodissimo io ho una staffa l sempre attaccata alla mia canone osr quindi per me è il massimo che si può ritrovare questa testa a sfera in particolare ha due movimenti rotatori a 360 gradi panoramici perché ha sia la parte alta della della testa quindi dove attacchiamo la macchina con l'attacco arca suisse attraverso questa levetta che vedete qui in alto nella parte invece più bassa abbiamo questa rotella che serve per far ruotare la parte panoramica invece sottostante quindi non più quella dove abbiamo attaccato la macchina fotografica ma quella subito sotto dove abbiamo la nostra griglia per la rotazione a 360 gradi poi abbiamo ovviamente questa che serve per far muovere la sfera all'interno della testa del cavalletto e al di sotto se noi lo smontiamo un'altra cosa bella di questo cavalletto è che abbiamo una vedete qui una vite sia per attacco un quarto sia per attacco tre ottavi quindi grande e piccola per poter adattare qualsiasi tipo di oggetto che noi vogliamo montare sul cavalletto dalla testa appunto come in questo caso ha ovviamente gli attacchi per il cellulare eccetera eccetera a seconda di quello che vogliamo fare poco più sotto qui e qui abbiamo altri due attacchi di estensione per poter aggiungere luci come per esempio capita me le luci della lume cube per illuminare la scena dei braccini di estensione per il cellulare per la gopro e via dicendo e ne abbiamo addirittura ben due di solito sui cavalletti ne ritroviamo uno solo poco più in basso abbiamo già parlato di queste clip se prendiamo la nostra colonna centrale che io prima ho staccato al di sotto troviamo un gancio che serve ovviamente per appendere qualsiasi tipo di oggetto al di sotto del cavalletto quando abbiamo montato questa colonna centrale per poterlo rendere ancora più stabile ad esempio il nostro zaino ritornando un attimo alla boll head mi dimenticavo tra l'altro di dirvi che ci sono anche due come vedete bolle sia nella parte superiore dove attacchiamo la nostra macchina fotografica sia sul movimento di blocco e sblocco dell'attacco arca suisse e quindi possiamo mettere sempre in bolla la macchina fotografica e questa in realtà non è una banalità perché non tutte le teste e non tutti i cavalletti riportano queste bolle di posizionamento e secondo me sono fondamentali il cavalletto viene fornito naturalmente nella sua scatola originale nella scatola possiamo ritrovare una sacca da trasporto molto utile secondo me sia per non rovinare il cavalletto quando siamo in giro a scattare o ci muoviamo per esempio in montagna che dove possiamo ritrovare dei percorsi magari stretti dove prendiamo dentro con lo zaino e via dicendo sulle rocce sia perché può trasformarsi questo stesso questa stessa sacca in uno zaino perché ha due piccole bretelle che possono essere messe appunto sulla schiena all'interno di questa sacca ritroviamo anche un manuale utente che bene o male lascia il tempo che trova però per le specifiche che vi ho detto sempre meglio darvi una lettura così si conosce al meglio testa e cavalletto il suo utilizzo e tutte le chiavi che servono per poter stringere le varie viti che ci sono che nel tempo ovviamente si allenteranno cosa dire quindi alla fine di questo foto pro x aircross 2 perché è l'evoluzione del primo x aircross dopo vari test che ho fatto sul campo beh posso solo dirvi ragazzi che sono rimasto davvero stupito un cavalletto da 900 grammi che ha retto tranquillamente la mia macchina fotografica con anche il teleobiettivo in giornate anche di vento in qualsiasi situazione completamente in carbonio con tutte le specifiche che vi ho detto secondo me è molto difficile da ritrovare sul mercato se non quasi impossibile il costo di questo cavalletto è all'incirca 200 euro se lo trovate invece su aliexpress circa 150 però sapete che ci vuole più di un mese per averlo ovviamente in quel caso vi lascio ovviamente nella descrizione tutti i link per andare a cercare sia i dettagli del cavalletto sia appunto per poterlo acquistare però posso solo dirvi che sono rimasto piacevolmente e veramente stupito lo utilizzerò tantissimo soprattutto perché sono molto abituato a fare uscite sul campo anche faticoso in montagna dove ci sono camminate veramente lunghe da fare e quindi credo che proprio per questo sia indicato e sia uno dei migliori cavalletti sul mercato perché sappiamo il peso che portiamo sulle spalle ovviamente portarne un pochino meno perché il cavalletto a queste specifiche non è poca cosa fatemi sapere nei commenti qui sotto anche voi cosa ne pensate se l'avete provato se ne sapete qualcosa o se invece volete qualche informazione in più tranquillamente io sono sempre a disposizione come sapete e ci vediamo alla prossima puntata ciao ragazzi grazie per essere stati con me